Ultimo e la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo sono finalmente diventati genitori, accogliendo nella loro vita il piccolo Enea. La coppia ha sempre mantenuto un profilo relativamente riservato nonostante la notorietà. Ha condiviso però questa meravigliosa notizia con i fan in un momento indimenticabile. Un concerto estivo durante il quale ultimo ha sorpreso il pubblico annunciando la gravidanza di Jacqueline. Quel frangente, carico di emozione e gioia, ha segnato un punto di svolta per entrambi, evidenziando la loro crescita non solo come coppia ma anche come futura famiglia. L'attesa è stata vissuta tra emozioni contrastanti, gioia palpabile e un pizzico di ansia, come spesso accade quando ci si prepara a diventare genitori per la prima volta. Jacqueline, figlia di Eder Parisi e personaggio altrettanto apprezzato per la sua delicatezza e riservatezza, ha documentato alcuni momenti significativi della gravidanza sui social, condividendo con discrezione la felicità di quel percorso. La loro storia d'amore, iniziata lontano dai riflettori, è stata caratterizzata da complicità e supporto reciproco, con ultimo sempre pronto a mostrare il suo lato più tenero e protettivo nei confronti della compagna. Il parto ha avuto luogo a New York, una scelta che ha aggiunto un ulteriore tocco di romanticismo e avventura alla loro esperienza. La città che non dorme mai è diventata così lo scenario perfetto per l'inizio di questo nuovo capitolo della loro vita. Lontano dall'Italia, la coppia ha potuto godere di un po' di privacy, immersi nella frenesia e nello skyline che sembra rappresentare la vastità delle possibilità e delle speranze per il futuro. Ultimo e Jacqueline Luna accolgono Enea. Le prime parole dopo il parto. L'annuncio della nascita del piccolo è stato accompagnato da una dedica toccante da parte di Ultimo. Il cantante ha condiviso sui suoi profili social le prime parole per il suo figlioletto e la foto dei piedini. La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto, ha scritto il cantautore, ricevendo immediatamente l'affetto e le congratulazioni di fan e colleghi del mondo della musica e dello spettacolo. Essere genitori così giovani comporta sfide e responsabilità, ma Ultimo e Jacqueline hanno mostrato di essere più che pronti ad accogliere questa nuova avventura. La loro storia è quella di due giovani che, spinti dall'amore e dalla passione, affrontano insieme le incognite del futuro. Il cuore è pieno di speranze e sogni. La nascita di Enea segna un traguardo. Un nuovo inizio, che riempie le loro vite di significato e di quella magia che solo la famiglia può portare. Con il piccolo tra le braccia, i due giovani genitori guardano al futuro con occhi pieni di felicità e determinazione. Sono pronti a crescere insieme al loro bambino e a condividere ogni istante, sia nei momenti di serenità sia nelle piccole sfide quotidiane.